La Source de Femme de Radu Miaileano, l'applaudito regista de Trend de Vie e Il Concerto, è l'ultimo film in concorso qui a Cannes 64 e racconta lo sciopero del sesso in un piccolo villaggio marocchino che potrebbe essere indifferentemente tra l'Africa del Nord e il Medio Oriente. Il motivo del contendere è il lavoro bestiale che le donne devono fare da sempre per andare a prendere l'acqua in cima alla montagna sotto un sole a picco, seguendo pericolosi sentieri di pietra mentre gli uomini oziano al caffè. Nell'aria i prodromi dell'imminente rivolta araba con tutti i suoi scottanti problemi. Come al solito Miaileano tocca con mano leggera temi scottanti e straordinariamente urgenti senza per questo fare un film politico, immergendoci invece nella storia colare di una comunità così lontana da noi e facendoci riflettere che il favoloso mondo arabo raccontato da Sherazad ha ben altre realtà.